O la nazione rossonera, andiamo a fare un altro giro di notizie dalla squadra del Milan. Non dimenticate di abbonarvi e di lasciare il vostro like. Amici entusiasti del Milan, tenetevi forte perché sto per rivelarvi una notizia bomba che scuoterà il mondo del calcio italiano. Preparatevi a una notizia che infiammerà la Serie A. Il Milan è a caccia di un difensore centrale dopo la partenza in prestito di Matteo Gabbi e sembra che stia, puntando su Maxime Esteve del Montpellier. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, Via Pianeta Milan, l'idea della dirigenza milanista è quella di ingaggiare un vice terzino sinistro e anche un centrale, visto che Gabbi è partito e ci sono dubbi sulla capacità di Simon Chiaer di dare un contributo costante. Il Milan ha messo gli occhi su Esteve, secondo il quotidiano, e ha lavorato oggi per cercare di battere la concorrenza per il centravanti francese e concludere il suo arrivo, il prima possibile. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle richieste del Montpellier o su quanto il Milan potrebbe essere disposto a offrire, ma il tema di questa finestra estiva finora è che le accelerazioni di Giorgio Furlani e Jeffrey Moncada potrebbero rivelarsi decisive. Secondo voi, l'arrivo di Maxime Esteve al Milan è positivo? Lasciate il vostro pensiero nei commenti!